e qui cominciano a usare 5 minuti siccome non avevo le batterie, ma c'era una memoria piena e anche il che riguarda, ma a questo gli mancavano le batterie fa tardare 65 minuti ma prima stavo vedendo quelle case che sono, queste qua sembra usciò di tipo come adesso così in buio potrei essere mia che sbagliarla ecco è vero è vero è vero è vero è vero è vero grazie 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 grazie